Non è tanto importante. Perché è sempre importante l'aiuto che si dà all'altro? Commento? Perché l'aiuto che si può dare agli altri non è tanto importante per il risultato, ma per l'intenzione di chi aiuta. Quella è la cosa meravigliosa. Per questo i maestri ci augurano che il desiderio di essere utili agli altri possa non essere soffocato dagli affanni della vita di ogni giorno.